E what's up a tutti c'è ormai benvenuti raggio green in questa nuovissima reaction siamo qui di nuovo ragazzi perché appunto ai game awards è stato mostrato un nuovo trailer del gameplay del prossimo Ori and Will of the Wisps voi sapete benissimo quanto appunto io abbia amato Ori and Blind Forest e quindi questo gioco effettivamente è estremamente atteso dalla sottoscritta già abbiamo visto insomma dei trailer in cui mi sono addirittura commossa ben sappiamo tutti il motivo per cui sono molto curiosa di guardare effettivamente questo nuovo trailer del gameplay questa volta per cui dura soltanto un minuto non perdiamo più tempo andiamo a guardarlo e poi ne parliamo nooo 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 ok Beh raga allora, io forse sarò esagerata ma vi giuro che ogni qualvolta vedo qualcosa di questo dannato gioco mi vengono le lacrime agli occhi e non posso farci niente perché allora prima di tutto la musica che si sente in sottofondo è sempre troppo emozionante ragazzi. E comunque ci ricorda insomma ovviamente elementi della colonna sonora di Ori and the Blind Forest e a me questo gioco mi ha segnato evidentemente ragazzi mi ha segnato nel profondo perché Ori and the Blind Forest è stato veramente bellissimo, un bellissimo gioco da tutti i punti di vista a mio avviso dal punto di vista della storia, dal punto di vista sonoro assolutamente e poi ragazzi anche dal punto di vista grafico e dal punto di vista del gameplay, della giocabilità. Dico questo perché ci tengo insomma a ricordarvi che io ho adorato appunto il primo capitolo, è stato meraviglioso dal punto di vista grafico ragazzi era veramente spettacolare nonostante appunto si tratti fondamentalmente di un platform che scorre diciamo in 2D tra virgolette ma graficamente era veramente spettacolare. Poi anche dal punto di vista del gameplay estremamente vario e tutto questo ragazzi perché ho fatto questo enorme preambolo perché tutto questo è stato assolutamente riconfermato, hanno voluto volontariamente riconfermare tutto questo in questo trailer. Non hanno fatto altro che ricordarci che questo nuovo capitolo, questo sequel Ori and the Will of the Wisps avrà tutte le caratteristiche incredibili che aveva avuto Ori and the Blind Forest e sicuramente ovviamente ragazzi avranno cercato di migliorarle da diversi punti di vista. Graficamente non so dirvi se sarà nettamente superiore al primo ma quello che ho visto ragazzi è comunque uno spettacolo per gli occhi, cioè qualsiasi scenario sicuramente di questo gioco sarà uno spettacolo per gli occhi come lo era appunto nel primo capitolo. È bello ragazzi, è troppo bello da vedere, cioè i giochi di luce, le luci, i colori, è tutto troppo bello dal punto di vista visivo, dal punto di vista sonoro lo sarà altrettanto perché le musiche che abbiamo sentito non solo in questo trailer ma anche negli altri sono assolutamente emozionanti. Per cui sono sicura che questo sequel sarà in grado di colpire profondamente nel cuore anche da quel punto di vista e che dire ragazzi dei gameplay che secondo me avranno fatto tante aggiunte, cioè sembra, perlomeno mi è sembrato di capire da questo trailer che il gioco ci offrirà veramente molte possibilità di approccio allo scenario che ci circonda. Ci saranno diversi modi per poter interagire con l'ambiente che appunto circonderà il nostro protagonista, diversi modi di approcciarsi col nemico anche e sicuramente sarà una grossissima novità quella di poter interagire anche con il nostro piccolo amico Barbagianni. Per cui anche in questo caso ragazzi quindi non bastava The Wolf Among Us 2 ma anche in questo caso sono assolutamente esaltata da quello che ho visto e non vedo l'ora di poterlo giocare proprio è un desiderio incredibile ragazzi. E' veramente un bisogno quasi quello di giocare questo titolo che tra l'altro è stato rimandato. Adesso io non ricordo di preciso quando fosse la data iniziale di uscita se non sbaglio era stata prevista per gennaio 2020. E' stata rimandata a marzo 2020 per cui il ritardo non è di molto sarà insomma sarà soltanto di appena un paio di mesi però ci sarà un qualche motivo. Io di solito ragazzi non metto tanto il becco tra virgolette quando rimandano date di uscita perché se le rimandano ci saranno dei motivi quindi probabilmente è comunque per dare ai videogiocatori una migliore esperienza di gioco possibile. Per cui io non me la sento adesso di condannare sti poveracci che hanno rimandato soltanto di un paio di mesi l'uscita di questo gioco che secondo me ragazzi il ritardo o meno sarà assolutamente incredibile. E' assolutamente da giocare. Ovviamente ragazzi fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E' un poteccio a tutti ragazzi da Giochilina. Ciao. Ciao.